Ciao a tutti ragazzi, in questo verissimo video sono Alstrac e benvenuti in questo verissimo video e oggi siete trovati su Alstrac e ho appena battuto il boss di Starlight Zone e in questo episodio sarà il penultimo Esatto, Scrap Brain Zone 1 Osservate molto attentamente lo sfondo perché di in atto in atto che passeremo in questa zona cambierà sempre l'inganno è il teostro e non ho rubato a nessun altro youtuber questa parola come nessun altro ha tolto un'altra vita a me mentre faccio quel salto Ma ce l'hai proprio con me, gioco tra tutte le persone esistenti al mondo, proprio con me non ho voglia di fare un game over proprio a quest'episodio qui possiamo anche non fare niente Questo è un puzzle puzzle si fa con lo spin dash anzi è molto meglio farlo con lo spin dash non volevo che mi schiacciasse l'unico problema in questa zona sono le fiammelle sopra e sotto aspettavo che passi perché non mi fido come è successo a poche poche tongs a 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 l'amo con la canzone mai fermarsi ok no cosa ho fatto per meritarmi questo wow ma meri sto registrando non volevo essere scortezza che cosa vuol dire? ok spero di farcela ok aspetta quando finisci il video quando dovresti di registrare mi chiami io sono in camera ok mi chiami la mia mi chiami la tavola ok? d'accordo scusate per il piccolo intrancio spero poi di fare un taglio a quella parte 1 0 bene cerchio di andare avanti no ah Quello ci è andato vicino Qui bisognava correre Corri Sonic Allora Stiamo vicini alla parte Dove ero morto Prima dannato Caterkiller Sì perché Quelle sorte di vermi Si chiamano Caterkiller Un altro Caterkiller No dai Avevo scoperto il bug Allora Stavolta non prendiamo Quella strada No No Ti ritro No 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 Entro qua Splemm, splemm Ah, qui bisogna aspettare che si formano le piattaforme Io lo sto facendo così, alla cieca Scudo preso Prendiamo un bel po' di anelli Spiega Spermm 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 allora aspettiamo che vada via perché sto continuando a raccogliere anelli anche se in questa zona non si può non si può prendere l'anello gigante non si trova mai l'anello gigante 70 anelli ho preso tutti i miei 77 anelli anche se non si riesce a prendere qualche punto Sonic ha passato l'atto 1 Ecco qua Scrap Renato 2 Ecco, avete notato che lo sfondo è cambiato? Ha proprio cambiato tanto Prima c'era una sorta di fabbrica Ora siamo all'interno di una fabbrica Sembra C'era un'interno di un'interno di un'interno di un'interno Sto cominciando a darmi fastidio Teletrasporto Teletrasporto Queste cose mi ricordano tanto Metropolis Zone Di Sonic o De Geoc 1 No, 2 il tendevo Teletrasporto Teletrasporto No, 2 il tendevo Teletrasporto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se non ricordo male si chiamano così di Super Mario. Non confondetevi con Boom Boom. Boom Boom. Per fortuna che ho preso lo scudo perché ho zero anelli. Se mi colpiscono adesso sono fregato. Grazie a tutti. Perché ho voluto saltare? Non confondetevi. Non confondetevi. Ok. Ok sezione finale. Siamo alla sezione finale. Mi servirà tanto 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 spinta. E siamo alla fine. Il prossimo atto è uno di quelli che mi fa veramente incacchiare come l'abinitzone. esattamente questa è l'unica catching che esiste in questo gioco. vediamo se avete capito. Eggman ci ha preso un bottone che ci ha spedito qua. Questo atto è molto lungo. ma fortunatamente conosco una super scorciatoia. Dovrete andare qua. Dovrete andare qua. Ma se fate in tempo dovrete scendere qua. è qui. E quando stavo pronunciando l'abinitzone ecco che ecco che quest'atto si trova l'abinitzone. è tipo versione anchor una roba obese. poi dovrete scendere qua giù. spero di non morire affogato. ecco qua. boom boom ecco qua. comunque l'animazione di knuckles che prende l'aria forse è la più ridicola che io abbia mai visto in un videogioco di sonic. ultima bolla d'aria prima di ripartire. ho lasciato lì una il piranha ma va ma va ma va ma va. tanto salvare gli animali non è importante. l'importante è finire il livello. l'importante è finire il livello. spero di non andare troppo vicino altrimenti altrimenti attiviamo quell'altro nemico. bolla! ecco qua. ecco qua. ecco qua. ecco qua. Ok Siamo quasi alla fine E per vostra informazione Non c'è un Un segno dove Dove Come che si dice Dove Tipo Non c'è una Cazzula Un cartello della fine No Qui si esce da quest'atto In un modo particolare Che strano Quando avevo provato Questa scorciatoia A me sembrava molto più corta Che si arrivava subito A questo punto Trattato Una mia impressione Non c'è Non devo fallere! 3, 2, 1 No dai! Resisti un altro po' Sonic! Nel caso game over concludo subito questo episodio. No! No! Non sprecchiamo nemmeno un millesimo di tempo! E nel caso dovrei arrivare alla fine... Boh! Finisco il video qua! Ok! La 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 la... resisti resisti dai sonic ecco capite perché ho perché odio labirinto zon ma non ma non ma non ma non La 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 la... basta concludo il video basta 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 concludo concludo è stato un piacere ci vediamo un'altra volta